Il lavoro svolto dal direttore sportivo Magna è sicuramente ottimale per il budget a disposizione, ma va completato, altrimenti i delfini perderanno la categoria. La conferma di Capozzoli e l'acquisto di Cardinale sono le due chicche della campagna acquisti che vede in pascuccio e puntoriere ottimi elementi e si hanno a centrocampo una spinta importante. Poi c'è il buio totale. Salese ha ottimi piedi, ma non ha il passo, è grasso e oggi Massimo può giocare in promozione, nonostante questo calciatore ha ottime referenze e un recente passato molto importante. Ma non a caso Santosusso e Magna ora cercano un registra sul mercato, puntano assai su Gargiulo e su un gruppo di under più o meno buoni, sui quali spiccano Cascone, ormai un veterano, e i fratelli D'Avella, che se sfruttati bene possono dare molto alla causa per la loro bravura e per il loro importante settore giovanile svolto. In questa squadra ci vogliono tre segni ori importanti, altrimenti non si salva. Cominciare in questo modo e pensare di poter fare il campionato senza acquisti sarebbe da pazzi e si andrebbe dritti verso l'eccellenza. I rischi sono notevoli. Domenica la prima partita a Sarno si gioca alle ore 17 e non alle 15. I locali hanno chiesto lo spostamento della gara, accettato dall'Agropoli. I delfini esordiranno in casa il 13 settembre contro la Palmese.